Sapete bene che la vitamina D è importante. Forse non sapete che ci sono 5 tipi di bambini in cui noi prescriviamo la vitamina D perché è particolarmente indicata per la loro salute. In questo video vi diciamo quali. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Che la vitamina D sia importante è cosa nota, ma perché? Cosa fa la vitamina D? Allora, innanzitutto la vitamina D è importante per il metabolismo osso e quindi è un grosso aiuto per regolare uno sviluppo armonico della crescita dell'osso. Un secondo motivo perché la vitamina D è importante è il sistema immunitario, cioè è una forte modulatore del sistema immunitario. Cosa vuol dire? Che aiuta il nostro sistema immunitario a combattere tutti i microbi con cui viene a contatto tutti i giorni. Il terzo motivo per cui la vitamina D è importante è la sua azione anti-infiammatoria. Sappiamo bene che ci sono alcune situazioni, alcune patologie come ad esempio l'allergia in cui è presente sempre un'infiammazione, anche se bassa, bene, la vitamina D ci può aiutare a combattere questa infiammazione. Quando non c'erano i preparati che poi vi suggeriremo di dare per bocca, come faceva l'organismo a procurarsi la vitamina D? Anzitutto il meccanismo più conosciuto è quello della sintesi di vitamina D sulla pelle quando viene esposta al sole. Il sole, i raggi ultravioletti battono sulla pelle, la pelle fabbrica vitamina D. Poi un po' di vitamina D si può trovare nei cibi, per esempio quali? Sono in realtà pochi i cibi che contengono la vitamina D. Il tuolo dell'uovo, l'olio di pesce e il pesce, soprattutto il pesce azzurro oppure il tonno, e il fegato. Quindi alimenti che i bambini mangiano poco e comunque, anche se li mangiassero tutti i giorni, il contenuto in percentuale non è altissimo. Capite quindi che molto probabilmente nelle zone dove il sole non è particolarmente forte non abbiamo la garanzia che la vitamina D arrivi a livelli adeguati. In quali bambini ci interessa particolarmente raggiungere dei livelli adeguati? Ovvero quali sono i cinque tipi di bambini che noi dobbiamo proteggere da una possibile carenza di vitamina D? Il primo è quello più conosciuto, i neonati. Un bambino nel primo anno di vita, ma anche poi nel secondo, cresce così tanto in lunghezza e in peso, fate conto che in due anni quadruplica il peso della nascita e arriva a una lunghezza che è quasi il doppio, insomma un po' meno del doppio, quindi c'è una crescita esponenziale, cresce tutto, cresce anche il suo scheletro. Quindi il suo scheletro ha particolarmente bisogno di calcio, particolarmente bisogno di vitamina D. Quindi categoria numero uno a cui diamo la vitamina D sono i bambini del primo e anche del secondo anno di vita. Quanta gliene diamo? All'incirca 400 unità internazionali al giorno. I vari preparati di vitamina D ne contengono a concentrazione diversa, quindi qui non facciamo riferimento a quante gocce, a quanti spruzzi, a quante unità di misura rispetto ai diversi preparati. Parliamo di unità internazionali così è più facile. 400-500 unità al giorno e la quantità adatta ad un bambino del primo e secondo anno di vita. E gliela daremo tutto l'anno. E gliela diamo tutto l'anno perché chiaramente è vero che il bambino d'estate potrebbe, la storia della pelle eccetera, ma in pratica quanti neonati esposti al sole al mese di aprile, al mese di maggio, al mese di settembre avete visto? Sono tutti estremamente coperti ed è giusto che sia così. Quindi non possiamo contare sui meccanismi naturali di produzione. Supplementazione di vitamina D tutti i giorni per i primi due anni di vita. Poi abbiamo i bambini della cosiddetta seconda infanzia, cioè i bambini che frequentano l'asilo nido dopo i due anni e la scuola materna. È importante l'assunzione di tutti i giorni nei mesi invernali. Perché? Per la sua azione che aiuta il sistema immunitario. I bambini della scuola materna e dell'asilo nido sono i più esposti alle infezioni, come sa bene chi ha il bambino costantemente in ballo con un qualche episodio delle prime vie aeree o del tratto gastrointestinale. Beh, un adeguato livello di vitamina D li protegge. Quando diamo questa vitamina D, non d'estate perché tanto non ne hanno particolare bisogno, ma la diamo nell'autunno-inverno quando invece i virus fanno da padrone. Quanta ne diamo? A quest'età sono consigliate circa 600 unità al giorno. Quindi un pochino di più, diciamo che è una volta e mezza quella che davate nel primo anno di vita. Terza categoria che merita una particolare attenzione sui livelli di vitamina D sono i bambini più cicciotti. Il sovrappeso e anche l'obesità sono una condizione predisponente per una carenza di vitamina D perché il tessuto adiposo la cattura, in qualche modo la sequestra e quindi rende meno disponibile la vitamina D in giro per l'organismo. Quindi le persone che hanno un po' di chili di più, mi ci metto evidentemente anch'io, hanno bisogno di prendere un quantitativo di vitamina D praticamente tutto l'anno, sicuramente almeno nei mesi invernali. Che quantitativo? Dipende dall'età. Stiamo parlando delle 600 unità che possono diventare 800 nei bambini delle scuole elementari e possono nei bambini particolarmente pesanti arrivare anche alle 1000 unità al giorno senza problemi. Un adulto del mio peso, per capirci, dovrebbe prendere 2000 unità di vitamina D al giorno. Se questo discorso vi sta piacendo e pensate che sia interessante per gli altri, mettete un like a questo video. Andiamo avanti. Qual è il quarto tipo di bambini che richiede una particolare attenzione riguardo la vitamina D? Cioè, dobbiamo evitare che vadano in carenza. Questo è lo scopo. Grazie alla sua azione anti-infiammatoria, in tutti i bambini allergici e particolarmente nei bambini allergici e asmatici, è importante un livello nel sangue di vitamina D adeguato. Perché? Perché sono stati fatti diversi studi che dimostrano che ci sono più episodi di asma e meno controllo dell'asma e delle allergie nei bambini che sono carenti di vitamina D. Questo non significa evidentemente che più vitamina D amo e più guarisce l'asma, ma sicuramente dobbiamo stare attenti a che non si verifichi uno stato di carenza. Quindi i bambini allergici che hanno il raffreddore in primavera, che hanno la congiunta di vita in primavera-estate, ma ancora di più quelli che in inverno fischiano che hanno l'asma, questi bambini è utile che abbiano un'integrazione di vitamina D. Dobbiamo dare loro la vitamina D, con lo stesso criterio che abbiamo detto per il sovrappeso, cioè sostanzialmente 600 unità al giorno se sono nella scuola materna e 800 unità al giorno se sono un pochino più grandi, diciamo alla fine dell'elementario se non alle medie. C'è un quinto tipo di bambini che necessita di vitamina D? E se ci pensate anche i loro familiari, anche i loro genitori, sono i bambini di pelle più scura, perché la natura ha adeguato il colore della pelle alla latitudine. Ci sta che le pelli più chiare siano al nord e le pelli più scure siano più vicine all'equatore, dove il sole picchia più forte su questo discorso torneremo. Sicuramente ogni pelle è adatta alla sua zona di origine, ma è altrettanto vero che attualmente i livelli di migrazione, i livelli di spostamento a varie latitudini fanno sì che uno si ritrovi in un contesto di sole che non è quello che la natura aveva pensato per lui. Beh, i bambini che hanno la pelle più scura fanno ovviamente più fatica, col nostro debole sole italiano, a sviluppare vitamina D. E questo vale anche per i loro fratelli più grandi, per le mamme, per i papà. Quindi i bambini di pelle scura devono prendere la vitamina D almeno tutto l'inverno, almeno tutto l'inverno, probabilmente anche tutto l'anno. La stessa cosa devono fare i loro fratelli più grandi e i loro genitori. Detti questi cinque tipi di bambini in cui di fatto diamo la vitamina D senza neanche controllare, poi ci possono essere delle situazioni in cui sospettiamo una carenza. In questo caso è possibile dosare la vitamina D, è possibile andare a cercare i livelli e vedere se sono bassi. Vi diciamo subito che è un esercizio che non conviene. Nel dubbio, nelle situazioni di sospetta carenza, conviene prenderla. Il sovradosaggio di vitamina D ai livelli che diamo normalmente è praticamente impossibile. Quindi stando sulle dosi giuste, prendere della vitamina D non è mai un errore. Ad esempio, adesso siamo in un periodo invernale e siamo pieni di microbi. Chi di voi adesso sta dando al proprio bambino la vitamina D o sta prendendo la vitamina D come stimolo del sistema immunitario? Provate a dircelo tra i commenti e vedremo le vostre esperienze. Sì, facciamo un po' un piccolo sondaggio. Dite nei commenti cosa state facendo e dite anche se rientrate in una di queste, se il vostro bambino rientra in una delle cinque categorie che abbiamo elencato. Dopo, se vogliamo, ce n'è una sesta che è una specie di contenitore onnicomprensivo. Cioè, non è sbagliato nemmeno dire tutto sommato d'inverno potremmo dare la vitamina D a tutti i bambini, a tutta l'età pediatrica. Per una ragione. Perché da 0 a 14 anni è il momento in cui si deposita il calcio nelle ossa. E il quantitativo di calcio che ha un adulto non l'ha accumulato a 30 anni, a 40, a 50. L'ha accumulato fino all'adolescenza. Poi basta. La partita del calcio, permettete l'ironia, la partita di calcio delle ossa si conclude con l'adolescenza. E poi anche voi mamme ricordatevi che potreste appartenere a una di queste categorie. Potreste avere la pelle scura, potreste avere delle problematiche allergiche, potreste essere asmatiche. Potreste essere sovrappeso. Ebbene sì, potreste essere sovrappeso. In tutte queste situazioni conviene prendere la vitamina D, quindi conviene che interpegliate il vostro medico di base per chiedergli se è possibile darvi una prescrizione per la vitamina D. Alla prossima! Arrivederci! Arrivederci! Arrivederci!